bentornati a patchwork ciao da valentina oggi costruiremo insieme una scatola fatta con le mollette di legno per il bucato inizieremo facendo la base della nostra scatola prendendo 9 mezze mollette e le incolliamo con la colla a caldo adesso faremo i laterali della nostra scatola adesso costruiremo il coperchio della nostra scatola sempre con le 9 mollette come base questa è la nostra scatola finita con il suo coperchio provateci anche voi vi aspetto alla prossima puntata di patchwork ciao